Senti adesso ti svelo una cosa che probabilmente non ti piacerà ma che a cui devi cominciare ad abituarti lo stop loss in un'operazione è il tuo più grande alleato ciao sono Marco Casario benvenuto a questo nuovo episodio dedicato al mondo del trading e oggi voglio parlare di una questione che sembra così banale eppure ti assicuro che è una delle cose più difficili che un trader soprattutto alle prime armi deve accettare lo stop loss che cos'è lo stop loss lo stop loss in un'operazione altro non è che una soglia di prezzo raggiunta la quale la tua operazione il tuo trade si chiuderà in perdita quindi è il limite massimo che un trader accetta su un'operazione affinché quest'operazione venga chiusa e venga chiusa in perdita vuol dire che il prezzo ci ha girato contro abbiamo aperto un'opposizione ipotizzando che il prezzo dovesse andare da una parte e andare dall'altra e quindi siamo andati in in perdita e potreste chiedermi ma come Marco ma tu sei completamente folle com'è possibile che lo stop loss sia il più il più grande alleato che abbiamo è semplice è estremamente drasticamente in maniera sconvolgente è semplice perché se non avreste lo stop loss potreste perdere all'infinito ci sono trader e mi dispiace e spero di non offendere nessuno ma non possono essere definiti trader ci sono operatori che fanno trading persone che fanno trading che aprono operazioni senza avere lo stop loss in macchina senza sapere qual è il rischio massimo che vogliono prendersi la perdita massima che vogliono avere su quell'operazione ma vi rendere conto conto dell'assurdità questi quest'operazione che sta sul mercato ed è una scheggia impazzita come pensate di chiuderla quando è che la chiudete qual è il segnale che vi dice adesso quest'operazione la chiudo e se in quel momento non stavate davanti al monitor e il mercato è crollato vi è venuto contro e vi sta bruciando il il capitale che cosa fate a quel punto chiudete e praticamente finisce la vostra avventura nel trading ricordatevi una cosa un trader professionista ragiona sul ritorno del rischio non sul ritorno dell'investimento non ragiona su quanto può guadagnare e portarsi a casa in maniera avida no lavora e pensa approccia il mercato pensando a preservare il proprio capitale e se ha delle regole che gli dicono per quella strategia il mio stop loss va su quella soglia di prezzo su quel livello di prezzo non ci sono non ci sono giustificazioni quando ci arriva l'operazione si chiude si chiude in perdita e vi portate a casa una perdita ma vi portate a casa una perdita che fa parte del vostro trading plan non è una perdita che è più grande della media non è una perdita che non doveva verificarsi è solo una perdita una perdita che va a collezionarsi ad aggiungersi al vostro trading journal che sarà avrà collezionerà perdite e collezionerà vincite perché nel trading la perdita è fisiologica non esiste la strategia che non perde mai come del resto non esiste la strategia che vince sempre esistono delle strategie che hanno dei setup delle regole di entrate e di uscita e avranno a fine anno una certa profittabilità avranno il 50% di probabilità di vincita avranno il 60% di vincite sulle perdite avranno l'80% di vincite sulle perdite è un'ottima strategia ma comunque quella strategia avrà delle perdite ed è fondamentale avere quindi uno stop loss in macchina ed è questo il motivo per cui cominciate ad entrare in questa visione la perdita gestita però la perdita quella meccanica quella da regole del vostro trading plan del vostro trading journal lo stop loss che fa parte della strategia che state tradando è semplicemente qualcosa di fisiologico è qualcosa da abbracciare anzi vi dirò di più ha funzionato per me ma sono sicuro funzionerà anche per voi come trader imparerete molto di più dalle perdite che dalle vincite quando vincete quando un'operazione si chiude in profitto o più operazioni si chiudono in profitto non imparate niente dal punto di vista didattico imparate quando perdete perché quando perdete il processo mentale che il vostro cervello vi obbliga a fare è di capire che cosa è successo soprattutto che cosa posso imparare da questa esperienza per cercare di limitarla magari posso cambiare qualche parametro della mia strategia ok proviamolo facciamo backtesting nel passato vediamo negli ultimi dieci anni questo cambio questo cambiamento che ho intuito come impatta sulle performance di fine anno nel caso in cui impatti in maniera positiva e aumenti le performance allora lo andiamo ad applicare alla strategia capite bene quanto è importante la perdita e quanto è importante lo stop loss non abbiate paura degli stop loss non mettetevi là con l'ansia di stare a guardare l'operazione con il prezzo che si avvicina allo stop loss ecco adesso mi prende lo stop loss ecco adesso arriva adesso perdo adesso perdo e state lì passate minuti decine di minuti ore a guardare il grafico perché lo so che lo fate lo so che c'è qualcuno di voi che lo fa che lo fa ancora è normale all'inizio ma liberatevi educatevi forzatevi questa è una delle prime cose che dovete affrontare come trader cominciate a stare lontano dal monitor se le vostre strategie sono ben testate nel tempo e robuste e sono meccaniche voi impostate a mercato l'operazione e poi ve ne andate dovete solo tornare per vedere se la vostra operazione è andata in guadagno o andate in profitto e andate in perdita punto non dovete stare lì a guardare e se prendete la perdita è semplicemente una delle tante perdite che prenderete durante l'anno ma non vi preoccupate perché se la strategia è ben calibrata e per essere ben calibrata e robusta vuol dire che è testata nel tempo e il tempo vi ha detto che quella strategia a fine anno porta profitti a fine anno ci saranno dei profitti che andranno a ricoprire le perdite cominciate ad abbracciare le perdite io spesso quando mi capita di avere settimane di chiudere settimane in perdita festeggio voi non ci crederete ma il venerdì a chiusura dei mercati se ho perso festeggio festeggio come quando ci sono quei mesi fantastici in cui tutto sembra andar bene in cui non fate altro che prendere una vittoria dopo l'altra un guadagno dopo l'altro e quindi vi sentite invincibili e festeggiate è normale si festeggia quando si vince ma festeggiate anche quando perdete perché ripeto perdere è semplicemente una strada che non potete non esiste la scorciatoia per non perdere quindi la dovete prendere quella strada abbracciatela è normale fa parte del trading se non la sapete accettare smettete di fare trading il trading non fa per voi è una menzogna chi vi dice che il trading è per tutti il trading è per tutti nel senso che tutti possono imparare a far trading ma non tutti dal punto di vista caratteriale personale emotivo sono in grado di fare trading quindi se voi siete così attaccati al ai soldi non lo dico in termini negativi ma se vivete male così tanto male una perdita che non vi fa scollare dal monitor e che non vi fa stare lì con il patema d'animo magari a fare l'errore più grande che potete fare cominciare a spostare lo stop loss sempre più in alto mano mano che il prezzo vi viene contro perché non accettate la perdita in quel momento e sperate che il prezzo prima o poi giri allora aumentate lo stop loss lo mettete più in alto e il prezzo vi sta venendo ancora contro allora lo mettete ancora più in alto e il prezzo vi viene ancora contro e che fate poi prendete una perdita che è il triplo il quadruplo il quintuplo più grande di quello che avresti dovuto perché? perché fare una cosa del genere? prendete la perdita appunto ci sarà un'altra occasione ci sarà un'altra occasione in cui forse prenderete un'altra perdita o forse guadagnerete è la definizione di un trading system è quello di collezionare perdite profitti e perdite sarà così per sempre quindi veramente sforzatevi a questo messaggio voglio darvi con questo video sforzatevi a pensare ad abbracciare la perdita e a pensare allo stop loss come il vostro alleato più grande è l'alleato che protegge il vostro capitale è la sicurezza è la ruota di scorta nella macchina è quello che è veramente la garanzia che mettete sul vostro capitale o sui guadagni che avete fatto sul vostro capitale ditemi che cosa ne pensate ragazzi ditemi se questo video vi è piaciuto e vi interessa questo argomento in modo tale da prepararne altri mettetemi un like se vi è piaciuto il video lasciatemi un commento e ditemi come vivete gli stop loss voi come vivete le perdite state ancora nella fase in cui siete incollati davanti al monitor a guardare il grafico che si avvicina alla vostra perdita o si avvicina al vostro profitto invece già riuscite a vivere in maniera distaccata il trading perché è lì che dovete arrivare se volete diventare un trader professionista al distacco totale tra voi e il vostro conto e le vostre operazioni i calcoli si fanno prima di cominciare a fare trading le strategie si creano prima di andare sui mercati non si va sul mercato e si prova a fare qualcosa non esiste provare nel trading provando si sbaglia provando si perde bene ragazzi che dire grazie mille per l'attenzione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video buon trading a tutti ciao ciao